Buon pomeriggio a tutti da Francesco Guarino, stadio Marcello Torre di Pagani per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C, Girone C. Sono pronti a incrociare i tacchetti Paganese e Bari, gli azzurro in casa Bari. Sono celiento di Cesare Frattali, Ricci e Terranova. Occhio ad Antenucci, che mette il pallone dentro, finisce a terra Ricci, calcio di rigore. E' andato a cercarselo, si è incrociato con Martorelli. Giordano mette tutti a distanza. Fischia, parte Antenucci e stavolta manda il pallone da una parte, il portiere dall'altra. Dopo 12 minuti di gioco il Bari è già avanti. Aspetta, poi cerca di servire Mallamo, non ci riesce. E' fermo Castaldo, esce alla linea difensiva Celiento. Mallamo, pensa al tiro, lo prova! E' fulbile a Baiocco, praticamente immobile. Dai 20 metri al 28esimo minuto, Paganese 0, Bari 2, con Mallamo. Impressione blanda su di lui, Maita. Chiava palla dall'altra parte Ricci, lo vede Maita, lo serve Ricci, pensa al sinistro di prima. Va in mezzo per Antenucci che non arriva sul pallone. Vicinissimo al 3-0 il Bari. Ora, occhio però alla ripartenza del Bari con Antenucci. Con Chettira che mette il turbo e se ne va nello spazio. Chettira da solo contro due, entra in area. Zona tiro, calcia forte. E Baiocco dice di no. Un minuto di recupero, pallone in profondità per Tommasini che si gira, vuole la porta. Calcia, Castaldo! Il guizzo al 46esimo col Bari in inferiorità numerica al primo. Vero tiro in porta, la Paganese riaccende la partita con il diagonale di Tommasini, con il tapin. Maita cerca subito il break per via centrali. C'è largo a destra Antenucci che va in mezzo a cercare subito l'iniziativa. Manarelli. Tommasini corpo a corpo, lascia giocare direttore di gara, tutto regolare. Occhio perché entra Firenze, il contropiede della Paganese. Firenze in mezzo a due, vince un rimpallo, non il secondo. Lo recupera con un gran lavoro Maiello. Che scivola ma riesce a servire Castaldo di prima intenzione per Firenze. Si inserisce alle sue spalle Manarelli, visto, servito. C'è Castaldo in area, il cross è arretrato. Pallone verso Castaldo che scivola, perde il contatto, poi resiste. Castaldo poi la deviazione sotto. misura, ancora occasionissima Paganese al minuto. C'è anche un altro giocatore con il piede più che delicato. Questa fase di gioco nevralgica per il Bari. Di Gennaro va in area a cercare a trovare la testa di Celiento che non inquadra la porta. Erano in due. Va tutto fuori proprio per Manarelli. Che prende il lato corto. Va al traversolo, il colpo di testa! Deviato, ancora Bandierina. Negli ultimi minuti. Cretella in the box. Castaldo non ci arriva. Tissone scavalcato. Che dira! Prova a lanciare Simeri. In uno contro zero, Simeri. Si porta il pallone. Vai, occo! Con i pugni di Cedinò. Di nuovo Simeri. Che dira in mezzo. Perde il passino. De Santis. Castaldo. La sponda verso Diop. Che va giù! Lascia giocare? No! Calcio di rigore! Calcio di rigore! Calcio di rigore! Ci ha pensato su contro Frattali. Palo! E pallone fuori dall'area di rigore. Poi non è ancora finita. Il cross di viazione si va in Bandierina. Castaldo ha sprecato il pallone del 2 a 2. La rimessa laterale è il triplice fischio di Giordano della sezione di Novara. Giù il sipario al torre. Paganese. Bari finisce 1 a 2 per la...